Martedì 8 giugno in Puglia sono stati registrati 8.302 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 134 casi positivi. 19 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce e 18 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 17 decessi di cui 3 in provincia di Foggia. A Lucera sono 26 attualmente i cittadini contagiati dal virus, 17.331 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia.